A Cefalù da qualche giorno abbiamo collocato nella centralissima via Roma un cestino intelligente, Westmate della Spazio Verde International. È incomodato d'uso gratuito, quindi in prova per qualche mese, ma sembra già che la risposta dei cittadini sia abbastanza soddisfacente. Come funziona? Perché è intelligente. È intelligente perché innanzitutto sfrutta l'energia solare, ha dei pannelli fotovoltaici sulla copertura che ne consentono il funzionamento, ottimizza i tempi di raccolta perché praticamente avvisa l'operatore tramite app quando è all'80% del riempimento e quindi per lo svuotamento e poi soprattutto ha una pressa che comprime di 5 volte i rifiuti. È un cestino getta carte, quindi in questo caso è per i piccoli rifiuti indifferenziati e vedremo come va eventualmente per implementarne anche con cestini per la raccolta del vetro, della carta e della plastica. A Cepalu siamo stati particolarmente attenti all'incremento della raccolta differenziata. A gennaio del 2018 eravamo all'11%, già dall'anno scorso invece siamo al 64% e raccolta differenziata. Per implementare ancora di più questo risultato, come Comune di Cepalu abbiamo partecipato, abbiamo presentato un progetto per la digitalizzazione, la meccanizzazione e la raccolta differenziata rombando mite del Ministero di Transizione Ecologica PNRR da 600.000 euro.